ok grazie 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 non esce da ombre basso ok sta bene? si anche adesso faremo con high kick alla fine va bene capito? si 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 Grazie 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 Molto avvicinato questo loco Questa schiena qua sento? Lombare e te? Gambe Te sento lombare E anche tanto qua Che piatto Io non Stavo lombare Dai Stai da lombare Stai da lombare Stai da lombare Già da durare Stai da lombare Stai da lombare si è buono però angoli giustici si devi sentire da casa che che bloca e scoglie era proprio così era proprio così si è buono si è buono si è buono 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 Grazie. 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 Ciao a tutti, vi invitiamo a fare le menti con noi.